Ciao belli, guardate come vi becco con uno scudo sui piedi, una bacchetta perché stavo facendo snowboard Lì c'è l'ail, intanto che ignoreremo, quello che abbiamo già ammazzato l'alta scorsa Ben tornati in questa nuova puntata Esatto, come vedete ci stiamo già dirigendo verso il primo Semicorogu Guardate dove siamo Oggi cominceremo da qui per prendere tutti i Semicorogu Dirvi come si prende, si arriva al Sacrario di Kito Wahai E poi passare gradualmente qui, abbiamo varie cose da fare tra Semicorogu e mini sfide C'è tanta roba in questa puntata, quindi vado alle ciance, però dobbiamo trovare dove sta il sasso Ce l'avrà il line No, sarà... dove partiamo? Stavo vedendo se era nascosto di mezzo all'aria Si va a prima... eccolo Vedi, siamo da prima in cielo Perché è nascosto dai cespugli Certo Io speriamo di mettere la cosa stealth Voglia di riscontrarci con questo line Non è come sembra signore, non è come sembra Stiamo solo rubando un sassetto Lì c'era un sasso Avevo messo un sasso in quel punto Qualcuno ha preso il mio sasso Oh Ciao Oh, salve, salve, salve Che belli che sono i dai nel d'argento Comunque Allora, da qui ci dirigiamo verso un altro Semicorogu Ce n'è in realtà vari qui Però ci dedicheremo prima altri due che si trovano qua Per poi passare interni perché ce n'è altri due qui Sono molto dispersi Sì, sì Comunque questa terra... Esatto Uno dovrebbe stare da queste parti E probabilmente entreremo in modalità silenziosa Visto che non ci sono grossi punti di riferimento Così da farveli vedere Ma poter velocizzare, insomma Allora ragazzi In realtà si cominciano a vedere lì solo Esatto Una freccia, grazie Una freccia sui denti, grazie No, ho preso la roccia Quindi si è rotta Quindi qui sopra Sopra questo promontorio Questo nel dettaglio Ok Quindi avete questa colonnetta qui Che vi può essere come punto di riferimento utile Oh, io abuso come sempre di rivali Oh, eccolo Ora dobbiamo capire Ok Questi io li odio Eh sì, perché non si capiscono Cioè, dovete dire che questi sono vicini Allora, da questo lato sono uguali Esatto E da qua che è se non ne manca qualcosa Ah sì Ah, ok Quindi qui c'è un buto Sì Questo era facile Esatto, perché sono vicini Se quelli poi invece sono... Cioè, se li metti lontani Tanto c'è dietro Ondra Che arriva Ah, che bello Magari proveremo pure a prenderci la nostra... Mertiglio Mertiglio Sì, un pezzo Oh È scomparso Ondra Esatto Oh, mi hai trovato Questo è il punto in cui Ondra vola più basso, ragazzi Quindi se dovete prendere e farmare pezzi di Ondra È un ottimo punto Vediamo se riusciamo a colpirlo Visto che... Cosa vogliamo? Gli artigli La scaglia Eccola, eccola, Ondra, da di là Sì, dai, dai, dai Ah, eccola No, dovevamo mettere il teletrasporto Vero Dovevamo Ehm Visto che ci siamo Ok Proseguiamo Per il prossimo dobbiamo andare da queste parti Se ricordo bene Forse anche più in basso No, sì, esatto, esatto Quindi Ci si vede come sempre Diciamo che velocizziamo O ci vediamo da queste parti Allora, è una scondiglia naturale Dovremmo esserci Però secondo me sta più sopra Sì, penso anch'io Quindi Sì, dovrebbe stare Sì, da quelle parti Qui Forse sarà proprio lì sopra Un sassetto Solito Un stallino Grazie No, non è un stallino Sono i classici Morticelli Dobbiamo correre Perché col fatto che piove Non ci possiamo mettere a scalare Eh, sì Eccolo Come te sbagli Guarda Sono sempre nei posti infami Che bella La pietra bagnata dall'acqua Mi hai trovato Oh, con questo si concludono Scusami Poverino Quelli in questa zona Quindi da qui Ci spostiamo Perché qui dietro Ne aspettiamo altri Sì, proprio sugli alberi Quindi Conviene forse Oddio qua Mi sa che pure con la moto potremmo Ma sì Andiamo un po' così E poi proviamo Però Sì, con la moto è più È più veloce Sì, sì È più veloce È più rapido Dio la benedica Ma c'è ancora un arco Okorogu Sì Potrebbe No Perché l'ho cambiato Perché stava per prendere fuoco No No Sarà sull'albero È un nascondiglio Tiado sotto un uccellino Sequence Che bella zona Sento chiaramente rumore di arco Sì Eccolo Che è successo? Ah, abbiamo Ahà Guarda Uno Ecco Due Che infami Hai visto Che sta là Per me Tanto sarà Avvicinato tutte le Le rovine I ruderi Sì Eccolo Vabbè Carino Sì 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 Ok Perfetto Ora ci possiamo avvicinare invece Verso le rovine Perché ce n'è un altro da ste parti Se ricordo bene Vero Black? Nel picco Sotto Ah ok Qua Va bene Va bene È sempre un tiro con l'arco Andiamo a vedere Scomparsa la moto Eh sì Per rumore Brutto La moto Che si decomponeva Ciao No Ho tirato sotto un uccello al volo Questa è proprio la puntata dell'uccisione degli animali Non fatelo a casa Non di qua No perché no Perché è di qua che devo andare Intanto con la moto Quello Io benedì No in realtà no Possiamo cominciare a tagliare Perché è questo Eh esatto Aspetta però Stiamo in alto Che è meglio Però è un buon posto per la moto È qua Sarà tanto sopra Eh Eh può essere È un tiro con l'arco Quindi Perché non l'hanno piazzato In pizzo In pizzo Eh sì Quindi va bene Ci vediamo su ragazzi Aspetta Fai il giro Può essere No è su sicuro Eccolo Guardate ormai ne abbiamo così tanto Che io non cambio più nemmeno I cose Oddio che paura Io spero che sia solo uno Perché se devi spaccarli tutti Questo ci Ok Perché Se no era follia No Oh Mi hai trovato Seme Corogu Oh Ora Il prossimo sta vicino Alle rovine di orbo Esatto Quindi quando arriviamo qua Vi spieghiamo come si arriva qua dentro Ragazzi Esatto Sempre un seme Corogu Con il tiro con l'arco Ok Visto che siamo qui Io direi che però Oh Guarda che bello il panorama Sì Di qua abbiamo la foresta Con i nostri alberi Di qua le rovine di orbo Le rovine di orbo Hanno una dinamica molto particolare Perché È un po' Simile alla foresta È un po' simile alla foresta È tutto buio Quindi Non c'è luce che penetra C'è solo un ingresso possibile Proprio dalla zona Dove stiamo per trovare Il seme Corogu E lì dentro dovete Diciamo Per poter raggiungere Il sacrario Portarvi sempre dietro del fuoco Per accendere Diciamo Delle torce Quelle torce Esatto Sì diciamo che C'è sempre la dinamica Che ti puoi perdere Come nella foresta Però in questo caso È proprio che Non si vede niente Io ho già visto il fatto che c'è di Corogu Ah sì Sì Ah sì eccolo È proprio che non si vede niente Quindi Devi per forza avere Sì La torcia In realtà poi servirà la torcia Se ricordo bene Anche alla fine Ora verifichiamo E poi ve lo diciamo Per poter Accendere delle cose E vedere il nostro sacrario Ok No Tu passi dopo Da tutta l'acqua Passi Ok Non capisco Proviamo sotto Eh esatto Intanto pigliamo questa al centro No è che è molto vicina Semplicemente Sì o forse era molto vicina E quindi prendevo male il tempo Mi hai trovato Se ne trovo Noi una volta nel let's play Abbiamo pure cercato di attraversare l'acqua Esatto E infilarci Barando Esatto Alla fine ti riporta dove eri prima Esatto Quindi è impossibile Ok l'ingresso Oddio forse è proprio Da qui Sì Sì L'ingresso Per le rovine è questo Quindi praticamente voi entrate Con il fuoco Oppure se avete leggerito di Daruk Non con questo Ma Non con questo Ma così esatto Fa una lieve luminosità E questo l'abbiamo letto Perché noi non ce l'avevamo Quando ci siamo entrati E insomma Di dentro praticamente Anche con la furia di Urbosa Puoi fare un minimo Quando fai i fulmini Fai luce E comunque sia Insomma è molto facile Basta un fio al fuoco Sì sì il fuoco Anche quando distruggi gli alberi Così ti danni un rametto Che puoi usare come torcia Sì L'unica cosa Dovete stare attenti A non farla spegnere Insomma O vi portate magari un'arma di fuoco Se ce l'avete Quindi esplorate qui dentro Una sorta di labirinto Insomma tra gli alberi Fin quando Arrivati nei pressi del Sacrario E c'è un inox Nero Voi lo ammazzate L'inox al collo C'ha una sfera Di quelle classiche Da mettere sui piedistalli La mettete sul piedistallo E spunta il Sacrario Sì Quando voi affrontate l'inox Diciamo che si vede solo L'occhio aperto Quindi Esatto Perché è sempre tutto buio In giro ci sono molte torce Che volendo potreste accendere Ma in realtà Con l'occhio così evidente Non è così difficile Sì esatto E tutto qua Quindi ora possiamo dedicarci Al prossimo Anzi ai prossimi Semikoroku Ossia nel dettaglio Verso questo gruppetto di alberi Sì Quindi lì sopra Lì sopra Sì Moto 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 Sì sì Ormai È che veloce Solo che È proprio qua Ma va bene però E aggettivamente È lo strumento Di cui si sentiva il bisogno È un gioco così vasto Soprattutto perché Quando te la dà Sei già In abbondante Endgame Quindi il gioco è finito Allora Ho già intuito Dove può essere C'è un ramo Sospetto Con un buco È una ghianda Una ghianda Ciao volta Yajaha Il prossimo Lo trovate Sotto questa A di alto piano Qua sopra Quindi ancora una volta Con la moto Io la benedica Questa puntata Molto utile E se è ci vediamo in là Esatto Ragazzi ci siamo fermati Solo perché Cioè abbiamo Stoppato un attimo la guida Solo per farvi vedere Queste strutture Che abbiamo incrociato Eh sono strane Sembrano quasi in inca Eh sì Chissà perché ci sono Queste cose Residui Di Di civiltà Passate E ora torniamo Qui c'è Ah sì Giusto C'era un altro Lionel Di quelli che noi Ignoreremo Mi piace che ti Mettano il Lionel E poi in prossimità Un seme Corobu Ciao signor Lionel Non morire Eccolo Certo Ok stai disperando Scusa Ma Perché era considerato Troppo lontano Si vede Questo ok Ce l'ha considerato Sì sì Ce l'ha fatta Oh scomodo Pazzo parecchio Vabbè scusa Qui è più Più basso Tre frecce Nel frattempo Io spero Che la smettano Sì Ok Perfetto Questo Diciamo che Con questo Si chiude Tutta la zona Qua E ora Possiamo avvicinarci Verso qui Dove ci sarà anche Un sagrario Tra l'altro Quindi varie cose Qui potete vedere Un dedalo Che sarà nella prossima zona Che faremo Ma ora Torniamo ai nostri Semi Corogu Ed ovviamente Se c'è un'altura Con questa forma Ragazzi Sappiamo benissimo Che qui sopra C'è un semi Corogu Da prendere Quindi ci svede Qui sopra Perché dubito Che possiate Perdervi Insomma Oh Troviamo Troviamo anche Uno scrigno Chi è che non L'avrebbe messo Uno scrigno Alla barda reale Bene Eccolo qua Il nostro Sassetto Esatto Intanto abbiamo Una visione Delle rovine Di ebra Qui sotto In lontananza Pure la torre Il monte Vulcano Il raggio C'è tutto Non fatele Montagna Ragazzi Perché una cosa del genere Può dare La morte a qualcuno Detto questo Ora ci avviciniamo Invece Verso questa strada Per vari Semi Corogu Ma soprattutto Un sacrario Tante cose Tanta roba Ci vediamo Nei pressi Bello Allora ragazzi Qui è una zona Molto particolare Intanto perché C'è una mini sfida Che non possiamo fare Perché è Tipo l'ultima Mini sfida del gioco Che per attivarla Bisogna fare 120 sagrari Che appunto Sono gli ultimi E dicevamo Quindi dopo aver fatto I 120 sagrari 120 Tutti quindi I sagrari Voi cosa dovete fare Dovete Ritornare qua Che si attiva Appunto La sfida Il sagrario Esattamente E vi da No la mini sfida Scusate Sì la mini sfida E vi da Il set di armatura Delle terre selvagge E Non sappiamo Dirvi altro Di questo set Un sagrario Allora Non siamo ancora Chi star là dentro Eccolo Si vede già Ma io prima Proverei Andare verso qua Eh ma Qui sotto C'è una Sta qua Sicuramente Sì Che tipo è? È un nascondiglio Naturale Allora Intanto facciamo Quello L'abbiamo visto Quindi intanto Facciamo quello Si Poi troveremo Il nostro Nascondiglio Naturale Sopra Lo dimmi Si è proprio Evidente Stavolta Evidente Evidente E facilmente Prendiamo Il teletrasporto E torniamo su Esatto Torniamo su Allora Quello che dovrebbe essere qui Di cui parlavamo prima Probabilmente È dentro Perché qui sotto Voi dovete sapere Che possiamo entrare Tra l'altro È un posto Decisamente pericoloso In compenso Ora avvicinandoci All'ingresso Ci sono altri temi Sì perché vedete Che ci sta appunto Sagrario nelle vicinanze In realtà Il nostro sagrario Sta sotto di noi Allora noi dobbiamo Andare verso l'entrata E Percorrere Tutta questa zona Però al di sotto Tutto questo sotto il fuoco Esatto Esatto Il punto La cosa più difficile Per raggiungere Questo sagrario È che ci sono Molti guardiani Che ti sparano Con il laser Laser Allora vediamo Perché qui Ci stiamo avvicinando Sì qua Qua dovrebbe essere Tipo no Ci sta un nascondiglio Naturale Ah forse eccolo Eccolo Sì sì evidente Noi stavamo cominciando A pensare Se essero tutti dentro Ma forse No anche perché Avevo lasciato la bomba Anche perché Se ci sono Se ci sono i guardiani È difficile poi Prendere insieme Esatto Si sarà parecchio tosta Però vabbè Ma che vada Li distruggeremo Sti guardiani Quindi questo L'abbiamo preso Qui in linea teorica Ne resta uno dentro Cioè uno qui All'ingresso Sicuro Esatto E gli altri Speriamo siano dentro Perché ce ne dovrebbe essere Un altro Oltre due black No ce ne sono alcuni Sulla linea di confine Perché qua passa proprio Ah tu dici qui sopra Però Probabilmente quelli lì Li lasceremo per la prossima puntata Ti lasciamo per la prossima puntata No è sempre da rompere Misere qua sotto No aveva ragione black Probabilmente perché ci stanno due archi Eccolo Tempio dimenticato Salvataggio in corso Bene bene Salve Questo era proprio un frattato Mi hai trovato Salve Salve caro Si è stato tosto questo Ora dobbiamo capire Probabilmente si entra da qui sotto Si Allora Ci sono molti guardiani Quindi a quanto pare La strategia migliore È quella di farsela in paravela Quindi In realtà Magari conviene Lasciare un Teletrasporto Ed anche qua No forse Ti rimette già lui qua Ma si Io lo metterò Eccoli Allora dobbiamo Attraverso le correnti Ah ascensionali Resuscitare Resuscitare In realtà Dobbiamo Diciamo che se prendete la velocità Massima Grazie alle correnti ascensionali Riuscite Riuscite A evitarvi Gli attacchi Tutta sta gente Esatto Eccoli il sagrario No Ci abbiamo tutto il cibo del mondo Probabilmente qui da qualche parte ci sono i nostri simpatici semi-corroco No Solo uno in fondo Eh no Ce n'era uno anche a metà No L'abbiamo trovato Sì ce n'era uno a metà che aspettavamo Ah no Vero l'abbiamo trovato Corri Ah qua c'è anche la dea per pregare Quinto Sacrario di Rona Cauta Ma prima Vediamo Lì sopra Da là sopra Capito Revali poi attivo L'abbiamo Sì sì Qui è da dove si attiverebbe la sfida E dietro Eh può essere Sicuro Guardalo Guardalo Che odio per voi Guarda guarda Puoi un po' Dargli il sasso in testa Ok sarà fatto Guarda Eh la sei cercata Ecco e quindi abbiamo finito anche questi segari in questa Cioè questi coro Semi-corogo in questa In questa zona Quindi a questo punto Semi-corogo fatti Se volete farmare qui In realtà e siete bravi a rimbalzare con lo scudo Questi li fate facili Tutti quei cosi dentro E niente I guardiani Come vedete noi siamo con l'outfit misto Che ci dà arrampicata Resistenza al caldo E resistenza al freddo Perché mi sono stufato di dover fare sempre il cambio vestito Tanto siamo abbastanza Abbiamo abbastanza stamina E abbastanza energia da potercene fregare Se non dobbiamo fare scontri Dell'armor Dovercene fregare della stamina Qui ci sarà come sempre Esatto La benedizione È stata una passeggiata Insomma Tra l'altro dovete sapere che l'unica bossa che ci resta da espandere sono gli scudi ormai Il resto è tutto fatto Ok Ora ragazzi Ci si vede direttamente fuori da questa zona Piena di cose che ci sparano Così evitiamo di fare brutte figure In diretta Per la prossima zona La prossima raccolta semi-koroku Sempre qui in zona Ecco c'è l'ingresso del templio Come dicevamo Esatto Siamo usciti E ovviamente Si vede qua sotto Esatto Un semi-koroku Che si nasconde sotto una lastra Ma poi col vento Perfetto Ok Un altro semi-koroku Potrebbe stare in uno di questi pilastri Sta in questo Nel dettaglio Quindi Revali del mio cuore Belle pure queste costruzioni gigantesche Si infatti stavo pensando la stessa cosa Questa narrazione silenziosa Di questo mondo distrutto Eccolo Opla Facile anche questo Allora Verosimilmente In queste altre collinette qua Dovremmo trovare il prossimo Io ho sparato tutto Revali Quindi non ci tocca questo Si Qua siamo Nella zona di confine Si Infatti ci sono sempre quei semi-koroku Che ci mettono in difficoltà Perché stanno sulla linea di confine E non sappiamo Dove includerli Andiamo all'ombra Che si fatica meno Grazie Mipa E' sempre molto gentile Eccolo Ok In linea teorica qui sopra Ora ce n'è un altro Ma questo lo consideriamo già parte della prossima area Esatto Quindi lo ignoreremo E invece ci dirigiamo Verso qui Troviamo proprio Troviamo un semi-koroku Che in realtà rientra finalmente nell'altra area Ma se sta sotto Lo prendiamo ora Se no lo ignoreremo E poi ci dirigiamo a questi Ma non è che è questo Che abbiamo già preso È in black No Questo è quello là Invece che sta nell'altra area Ok Andiamo a vedere Lo vedremo solo vivendo Esatto Come il vero avventuriero Vuole Io me lo aspetto qua Però non c'è Non c'è qua Ma no Nell'altro Un altro scocchietto Ah e allora Ah ok Eeeh Eeeh Forse sta qua sopra Si Io già sto faticando a scalare Pensa a lui Ottimo Grazie Revali Grazie Mmm Vai cerchiamo Facchiello Sta su Sta su Eccolo Oppure sta qui Sta qui Cerchiamo Ta da Ok Ora in questa gola Ce ne restano due Per quest'area Andando verso sud In realtà Ce ne sono altri Che però rientrano In altre zone Quindi li ignoreremo In realtà ce ne stanno Tre In questa Cioè due qua E uno un po' più sotto Eh che però Non è di quest'area Sì è di quest'area Ah è sempre di quest'area Sì sì tre Quindi per ora Vado verso qua Sì davanti Speriamo che siano In bassa quota Non altri Ma sembrerebbe di sì No sempre in bassa quota Probabilmente è qui davanti Ah uno sta là Brava Black Leggermente più a nord Eh sì Mi piace Vai vai in volo In volo In volo Lancialo Lancialo Bravo Che effetto Eh Ciao 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 E ce ne sta uno Più in giù Penso sì Ma dove Un grosso mistero È sempre un nascondiglio naturale Qualcuno Non era un mistero così Misterioso Misterioso Tutti i sassi qua Ciao caro E invece Più giù Qui praticamente In questa gola Dovremmo avere il prossimo Moto Moto Sa pure vestitumetrico Lei ha cominciato disdegnando la moto Io la disdegno sempre la moto Perché è quanta Moto 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 Usa la moto Che fai non usi la moto per un nanosecondo Certo Ecco Ho del verde Ho delle cose da distruggere Esatto Con questo si concludono i semi con Roku di questa gola Ora qui come vedete c'è un sacrario che noi abbiamo già preso Quindi ci teletrasportiamo proprio qui Allora ci siamo appena teletrasportati a questo sacrario Sacrario di Moia qualcosa Moia Moia Toma Per prendere due semi con Roku e dopodichè andare allo stallaggio A prendere in realtà a consegnare una foto A dirvi come parte una mini sfida perché la porteremo avanti Ma prima Allora adesso ci sta due semi con Roku vicini Una a destra In queste Alberi? No Destra Più destra Più in qua? Esatto si Dovrebbe stare lì Dovrebbe stare lì perché ci dovrebbe essere tipo un polvere di fata Ok Qua c'è qualche albero alto Sarà qua su? Oppure no Sali? Sono già sulla cima Allora provano a trovare Perché in quelli più esterni Sì però Perché c'erano due laghetti Noi cercavamo un quello prima Invece ero Ehi Mi sono sbagliato Capita anche a te ogni tanto Ora Il prossimo sta qua Nell'altro Nell'altro gruppo di alberi Sì A cui andremo In moto Già trovato Aia Che cos'è? Davanti forse Eccolo Perfetto Andiamo allo stallaggio Esatto Che poi Sono stati bravi a fare pure L'evocazione super rapida Perché se no Uno dice Vabbè vicino Ci vado a piedi Diretto via Che vero Bravola No era il parcheggio Perfetto Eh l'ho parcheggiato Guarda Allora Qui ragazzi Ci sono questi simpatici Tre tizi Che parlano Di dei fossili Che ci sono sparsi In giro per la mappa E vogliono Che gli portate Delle foto Di cosa? Delle balene Quindi il fossile Di balena gigante Delle terre di ebra E noi ce l'abbiamo Che noi ce l'abbiamo Non hai nessuna immagine No aspetta Perché Ok Tutte e tre Ah Parte con un ordine Quindi Dobbiamo Ah no Uno forse Sarà uno Per ognuno Balena gigante Terre Gerudo Eccolo Ce l'abbiamo Non ti sei ancora procurato Non ce l'abbiamo Noi ce l'abbiamo Gerudo Da Rook Sì 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 Terre di Odin Eccolo Perfetto Oh Ecco il fossile Ma è magnifico Che immagine Straordinaria Con questa potrò dimostrare Che le balene giganti Si sono estinte A causa di un'eruzione vulcanica Perché tutti e tre Hanno una teoria Praticamente Su come Si sono estinte Aiuto anche i miei fratelli Nello stesso modo Ora quindi Questa Vi facciamo vedere In che zona sta Anche se Se ci seguite L'avete già visto Altre volte Però Ma io specificare Eccolo Piccino a dove siamo partiti Tre puntate fa Due puntate fa No Eh sì Due puntate fa Allora Per quanto riguarda Gli altri due Come sempre Fateci sapere nei commenti Se questo approccio Magari non vi piace E vi facciamo vedere Dove sono Noi non abbiamo le foto Sì Noi dobbiamo ancora Uno è molto facile Perché quello del deserto Si vede già dalla mappa Quindi Lo trovate Eccolo Eccolo qua Sta qua Vicino all'esilio del dragone Noi lo fotograferemo Quando faremo la guida Nelle terre di Gerudo Invece Il prossimo lo fotograferemo A breve Proprio nelle terre di Ebra Perché si trova praticamente Vicino a un sacrario Al sacrario To Kumo Che si trova Nei pressi Della cima nord Di Ebra E dovete trovare Una galleria Sì perché È dentro Un ghiacciaio Di appunto Di questo monte E E quindi Dalla mappa Non si vede Perché sta qua sotto Da qualche parte Esatto Sta qua sotto Magari Quando noi lo fotografiamo Facciamo Comunque anche La guida Quando faremo La terre di Ebra Mettiamo Di nuovo Il link Sotto a questo video E lo stesso Dell'altro Probabilmente Io mi scorderò Ragazzi Perché succederà Fra un sac Quindi Scrivetemelo nei commenti Se vi serve il link Sennò Insomma È tipo Due video prima Tre video prima Sarà verosimilmente Sì sì E nulla Fateci sapere Se preferite Magari Che quando ci sono Queste missioni Noi ce ne freghiamo Di eventuali spoiler Andiamo proprio All'avventura E io non lo faccio Perché questa cosa Potrebbe portare Senza i teletrasporti Pronti A magari una guida Molto lunga In cui io parto Ve ne so Da qua E mi devo fare Tutta sta strada Quindi magari Non so se poi Riesco sempre a fare Dei tagli Che non vi Brucino ore Di minutaggio Quindi fateci sapere Nei commenti Esatto È importante Insomma Questa cosa Detto questo Però vi possiamo dire Qual è la ricompensa Ossia una rupia d'oro Esatto Allora In realtà Per il prossimo Seme Coroku Abbiamo bisogno Del cavallo Perché è una Corsa a ostacoli E quindi Prendiamo Dato che siamo Qua all'ostallaggio Prendiamo Il cavallo Quindi in realtà È meglio Saperlo prima Perché uno Va là E diciamo Esatto Sì E dobbiamo C'è già capitato Sulle terre Dei monti gemelli Questa cosa Vai 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 Facciamo il culo Oh che bello Ok Vabbè Questo Seme Coroku Si trova appunto Verso Eccolo Si vede Verso Lungo la strada E dovete Saltare Questi ostacoli Molto semplice Preso Ok Detto questo Noi riportiamo Il cavallo Allora Ragazzi Torniamo Lungo la strada Esatto Qui in realtà C'è un Uno stallino Nox Noi L'avevamo Visto male Perché disegni Fatti microscopici Infiniti Pensavamo Che era uno Che non avevamo Mai fatto Invece E' appunto Uno classico Quindi proseguiamo Vi dirigo Verso il prossimo Allora sulla strada Dopo la curva A sinistra A destra Scusate Da queste parti Forse negli alberi può essere Eh si perché è una Polvere di fata A polvere Più vicino Più vicino Sì c'è la polvere No scogliato Hai paura Salve In via cose Grazie Grazie Quel mostro è davvero Troppo duro Sì sì Va bene Oh È sempre lei Infatti stavo dicendo Mi sembrava la stessa Della volta scorsa Va bene Allora Qui da qualche parte Però Ci deve essere Un Seme Corogu Ah uno l'abbiamo già preso È quello lì Ah no È quello di poco fa Va bene No in realtà Non è qui Sì Sì è più avanti È più avanti Però abbiamo salvato una persona Quindi siamo stati Eroici È su questo Boschetto Oh Qui Sì Questa è che sta sopra La struttura Sì sicuro Guarda proprio Sta strada Eccolo È uno È praticamente dall'altro lato Della strada Poco più avanti Sempre in un boschetto Andranno quegli alberi Mazzà ormai Solo in moto E quest'altro Invece che è? È una scombina naturale Mi pare Ah Strano Allora che ci siano Questi cose Sì sì Mi sa che l'ho sbamato Guardate che vi faccio Ragazzi Ma guardate Che vi faccio Sto diventando un pro Oh Vorrei la mia freccia Perfetto Con questo Praticamente si chiudono Quelli di questa zona E dobbiamo ritornare Ad avvicinarci Verso qui Questa intanto Ne approfitto Visto che siamo nella mappa Qui trovate un ricordo Ragazzi Quindi qualora voi Stiate anche a caccia di ricordi Sappiate che qui Ce n'è uno Nel dettaglio abbiamo Uno che sta da ste parti Uno che sta qui Si sgama subito Eccolo Uno probabilmente qua E un altro probabilmente qua Quindi insomma Parecchi E indovinate con cosa ci andremo Con la nostra Moto preferita Sta in riserva E vabbè Gli daremo un po' di mele E lei è felice Che spettacolo di invenzione La moto Eccolo va Già sgamato Era un tiro con l'arco? No La cosa si fa sospetta Invece si Eh no Questa è una scoglia naturale Niente Speravo di evitarmi la freccia Tanto quella recuperi E che dipende Che finaccia Non fa Preso Salve Salve Recuperata Niente Questa cosa Mi deve far scomparire Da moto Qui c'è una nuova freccia Da poter prendere Un line Tra l'altro Ma noi Lo ignoreremo Andiamo dritti dritti No Non è proprio dritti dritti È dritti storti Dritti storti Eh no Ah perché È verso l'altro promontorio Qui c'è quello rosso Che poi saremo a prendere a breve Quale rosso? Quell'altro Ah ragazzi Guardate che cavallo strano che ho E questo voi non lo sapete domare Eh ma stai in riserva Se l'hai superato No non l'ho superato Stai solo di qua Ora l'ho superato Si sta girando E qui 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 Via cinghiale Via via Devi uccidere il cinghiale Questa è la prova Eccolo Ma davvero siete venuti Hai ucciso un cavallo Succede alle volte Drago Guardalo Ma che spero che non sia morto Oh ma sei terribile Ma è successo Io volevo uccidere il padrone del cavallo E lui è stato purtroppo un incidente E ragazzi non fatelo a casa Io amo i cavalli Sono delle bestie meravigliose Non è vero Lui odia tutti gli animali E in queste puntate si è visto Cioè In queste puntate ha tirato sotto Tutta la fauna Di Irul Quando non la tiri sotto Gli devi informire i tuoi denti Ora Andiamo qua Ma no Fin quando regge Cioè due secondi dopo Vabbè Sti cavoli Ecco Di qua La casetta Eccolo Guardate quella girandola Come brilla L'ho tirato sotto Insetti forse Cioè Tu oggi non sei più un naturalista No è un Un errore Ah sì Ora voglio vedere come Ah ecco lì Due frecce Vorrei vedere come ti faccio No mi sono fatto pregare Un po' strano il giro Favisti così Cosa cavolo Evidentemente non passa lì No Lo distrugge Cioè Si cambia frecce Questa potrebbe essere utile Perché se fanno attacco aria Magari No eh Guarda lì io li odio Eh sì Ma non hai capito il ritmo Sta a prendere al panico ora Niente Intanto che stanno a tirare le pietre Chissà se con la moto riusciamo a prenderlo Eh Avere la moto ora ti piace Black Moto 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 E che già quasi mattina forse Cioè è molto flebile Quindi ho paura Che scomparirà Ma è lontanissima Allora ragazzi è successo un panico Quella non era una stella cadente Ma è È il lord Esatto È il lord Che è una roba Che c'è solo ogni tanto Sì Siamo in una zona Dove Aspetta Foto Appunto dove dovevamo fare le foto Ai coniglietti Che ci danno Piano Piano No quando fai le foto Non cambia Eccolo Però ce ne dovrebbero essere altri Qui vicino Sentite questa musica Vai piano Vai piano Vai piano Vai piano Esatto Cosa Che carini Salva Questo ci serve per la missione Che avete visto nella scorsa puntata Ma qui loro sono attratti da cosa Vi starete chiedendo Perché sono un sacco Da una cavalcatura ragazzi C'è una cavalcatura speciale Leggendaria Com'è Eccolo No Aspetta Lord Che ora è fuori fuoco Ma a noi non ci interessa Perché così lo aggiungiamo Al compendio E soprattutto questo dovrebbe essere cavalcabile Guardate quanti soldi potreste fare qui ragazzi Oddio Meno male che abbiamo un sacco di stamina No Quindi si deve fare questa cosa con il vestito stealth Comunque ora l'abbiamo voluto includere Perché ora sapete dov'è No Non l'abbiamo Non ce l'abbiamo Sto scendendo Sto scendendo perché avevo visto invece una stella cadente Ma non so dove di preciso Perché da queste parti Noi l'abbiamo vista mentre vedevamo Dalla torre quale? Da questa di Ebra Verso qua Quindi in linea teorica dovrebbe stare qui da qualche parte Però Finita nel mezzo Quindi probabilmente Non si vedrà Comunque ragazzi Eccola Eccola Vediamo se riusciamo Forse non faremo in tempo E avete visto Lord Che non so di preciso Oltre ad essere una cavalcatura eroica Se è in qualche mini sfida Se qualcuno ci chiede una foto E comunque sia Anche solo per il compendio Ce l'abbiamo Quindi Scomparsa Eh sì perché è giorno Avevo visto che era tardi Detto questo Noi torniamo A quello che stavamo facendo Ossia prendere Semicoroku Piccolo così Bonus per voi Quindi ragazzi Siamo Ci siamo teletrasportati Al sagrario di Monia Toma Quello sempre vicino Allo stallaggio Allo stallaggio di Dormo Dolce Per diriderci Verso il Semicoroku Che ci mancava Prima che vedessimo la luce Del Lord Ci facessimo distrarre Come due bambini Ed è bellissimo Che questo succeda ancora Dopo non so quanto tempo Che giochiamo a questo Zelda E l'abbiamo voluto includere Anche perché Alcuni di voi Come Sebastiano E Peppe Che seguono un po' Anche questo video Per Per il piacere Proprio di questo Zelda E non Per prendere Semicoroku In giro per esempio E sicuramente Saranno felici Di vedere questa cosa Qui intanto c'è il promontorio Dove trovate il ricordo Alla nostra destra Quello lì Ok Allora superiamo Ecco il rosso Quello rosso Di prima Da cui è nato il panico La texture Della Dello sfondo È lì Sì Che Brutta Come la morte Quello Quelli No Balla Cioè No no È l'erba Che te la carica Eh ma vedi Sembra che trema Linel Ignoramo Il Linel Salve Salve Non è come sembra È solo una moto È solo una moto È solo una moto È solo una moto Lui giustamente Ma che diavolo È quella roba Ma stai andando Ah Ho mirato Verso la La montagna Sbagliata Semplicemente Intanto Con la moto È un attimo Breve Tocca Ecco Lord c'è ancora Vedete Vedete Quel brillo Quindi ora Di notte È molto evidente Capire quando Lord arriva Sì Però io forse Farei un cambietto Prima di morire Ah Bello Ora sì Che siamo I Poco Il kit È perfetto Allora Da queste parti In realtà Dovremmo Starci avvicinando Che seme coroguera Black Ah forse Qui c'è qualcosa Di sospetto Eccolo Eh sì Nascondito naturale Sì sì Mi sembra un po' esagerato No Invece no Un grande utilizzo Di una freccia elettrica Oh Perfetto Preso questo Ce ne resta Uno qui sopra Giusto? Non uno solo In realtà Ce ne sono due Quindi ritorniamo su Il moto Ok Certo Sembra una montagna Abbastanza dolce Da permetterci Un po' di velocità Qua di qua Questa volta Allora È diventato un gioco Di motocross Esatto Il Seme corogu È un tiro con l'arco E L'altro È Invece Un nascondito naturale Dobbiamo cercare In questa pioggia E questa nebbia Un Tiro con l'arco Da ste parti Una girandola Si sentono rumori Sospetti Però Eh Sono i tuoni Senti Senti Tutte Tutte Sono lì Anche qui sopra Potrebbe Sto cercando Girandola E che è questo buio Eccola Eccola È che piove Non c'è tanta visibilità La condizione migliore Per tirare frecce Anche qui Era dietro un albero In linea teorica Ma un fulmine Ha tirato giù L'albero Ancora? No c'è un altro L'unico Superstite Cioè rispetto a sprecare Mille frecce Per inseguirlo Ok L'altro Era abbastanza Evidente Perché questa struttura È molto sospetta Eh sì 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 Non metto la moto Black È troppo vicino Vole mettere la moto Dai sono un po' Di camminate Se fa bene Poi sprechiamo sempre Benzini Oh mio dio Questi sono caduti Perché Sì Per il nascondio naturale Che ha anche distrutto uno Che si è trasformato In una fascina Oh Scusami eh Che sei in un posto pericoloso Ora Ci resta l'ultimo Semicorog Ragazzi Quindi stiamo per finire Ed era tipo Giù da ste parti Sì Ossia Tipo Forse qui Sì Dopo questa Quella Rampetta Non so Non so se la moto Attirava i fulmini Tanto tutto questo Diventava brutto Bene Questa non è fatta Di metalli È fatta di materiali Ancestrali strani Ho visto Sì Ah non è rampetta In consenzi Ci siamo già passati Una volta Sì 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 Eh questo è A ridosso Della zona Di Ganon Quindi da ste parti Basta Da ste parti C'è un tipo Di semicorogo Di che tipo No più avanti Più avanti Più avanti intendi qui No più destra Sì Poco più avanti Ma che tipologia Ah qui Sicuramente Eccolo Oh Ultimo semicorogo Yeah Ciao 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 caro Oh E ci lasciamo così Con questa visione Rassicurante Del castello Ciao Ganon Ovunque tu sia Noi andremo La prossima volta Ragazzi Questa È la zona E quindi vedremo anche Una delle balene Tanto famose Che ci mancano da vedere Ma soprattutto Ci avremo un altro labirinto Il primo labirinto Che vedremo interamente Dentro la guida Detto questo Ragazzi Fateci sapere sempre Nei commenti La questione legata Dalle mie sfide E nulla Io continuo A essere soddisfatto Anche di questa guida Devo dire Perché si continuano A scoprire cose Del mondo Tante cose Sì sì Noi adesso Andremo a dare La foto Di erupigli Del conigli Sì 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 Anzi Mi comincio a teletrasportare E alla prossima Ciao belli Dunque Uff